Qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova. Benvenuto Ivan! Buongiorno, buongiorno a te e buongiorno a tutti. Tra l'altro sai cos'è un pattern ricorrente di queste dirette? Che la prima volta che parlo con un nuovo amico, podcaster o aspirante tale, è la prima volta che ci parlo in senso assoluto. Quindi tu mi sei testimone che io e te non ci siamo parlati mai prima d'ora, giusto? No, 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 assolutamente no, 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 veramente. No, è vero, mai parlato. Tra l'altro la cosa buffa è questa, che per problemi di connessione, telefonate che avevo prima io, non siamo neanche riusciti a fare una parte di riscaldamento, che ne so, collegarci dieci minuti prima per verificare che tutto funzioni. No, no, un minuto prima, pum, buona prima, vai, siamo live. Scusa, ma mica vuoi che sia sempre tutto perfetto, ma ci mancherebbe, dai. Ma ma, che noia. Cito per la seconda volta in tre giorni Chiara Ferragni, cioè nota, io da filosofo dovrei fare citazioni di Socrate, Aristotele, Schopenhauer, no, cito Chiara Ferragni, che riportando un detto americano che gli diceva un suo amico di Los Angeles, diceva, nessuno fa la fila per montagne russe piatte. Che affascinante ci pensi, perché se noi avessimo tutta una vita lineare, priva di problemi, priva di problemi di connessioni, priva di malattie inconvenienti, piccoli, grandi problemi, forse ci arriveremmo addirittura ad annoiare, ad inventarci i nostri stessi problemi. E tra l'altro noi abbiamo creato una tecnologia talmente avanzata che ci ha permesso di aumentare il nostro potere, ma sono aumentati anche esponenzialmente, in maniera proporzionale, anche i nostri problemi col digital, o no? Perché mi rendo conto che oggi ho conto dei problemi che dieci anni fa non sentivo. Come dire che ce la siamo cercata, ma noi esseri umani siamo abili a cercarci i problemi. Allora, innanzitutto, proprio inciso, nulla contro Chiara Ferragni, che anzi saluto, salutiamo Chiara Ferragni. Salutiamo Chiara Ferragni. Perché quando si parla dei VIP le battute vengono molto semplici, quindi insomma viene anche facile ironizzare, sarcasticare, ci mancherebbe, dai. Allora, sì, sì, infatti, diciamo che aumentano i problemi, o meglio, molto spesso possiamo dire che i vecchi problemi diventano nuovi. Se noi andiamo a vedere tantissime situazioni, criticità, definiamole così, dai, legate al digitale, noi vediamo che il più delle volte, molto spesso, è un po' sempre la solita vecchia storia, ma approdata nel digitale. e di conseguenza inizia poi a godere di leggi proprie, che sono quelle del digitale. Quindi parliamo di scalabilità, viralità, l'assenza di spazio, di tempo, assincronia e tutto quanto, che ovviamente nel mondo online esistevano veramente in minimissima parte. Noi ci siamo conosciuti ieri durante una diretta sul mio podcast quotidiano Chi cerca Tova intorno al tema del bullismo. E un po' abbiamo fatto un viaggio nel tempo, mostrando come fenomeni di bullismo sono sempre esistiti. Oggi c'è il cyberbullismo, che è la traduzione, la migrazione nel digitale di qualcosa antico, probabilmente come l'uomo, visto che in 6.000 anni di storiografia riconosciuta, l'uomo è sempre stato impegnato a preparare guerre, a fare guerre, a leccarsi le ferite dopo le guerre, come abbiamo detto ieri. Però c'è anche una cosa da dire, che il digital non opera una semplice traduzione, opera anche un'amplificazione del segnale e della problematica. Quindi da un lato io sono d'accordo con Gary Vaynerchuk, uno dei più grandi esponenti del mondo digital e comunicazione, che dice che i social network non ci hanno cambiati, ci hanno svelati. Condivisibile. È anche vero che in un contesto digitale c'è un'emozionalità amplificata e soprattutto, come diceva il preoccupato padre di ieri, Dario, l'assenza di un feedback immediato della persona che subisce l'atto di bullismo mette completamente da parte anche quel residuo di umanità dettata dall'empatia. Cioè il fatto che io faccia male ad una persona e non veda le conseguenze immediate mi porta a pensare, forse erroneamente, che quel crimine è rimasto, come dire, impunito, non ha avuto nemmeno gli effetti, perché non ho un feedback immediato e quindi mette da parte l'empatia che mi rende essere umano. Quindi qual è la tua posizione da psicologo su questo? Sì, allora, sicuramente c'è un discorso di questo tipo. Il più delle volte, in questo caso, anziché manca l'empatia, perché attenzione, noi solitamente per l'empatia, nel gergo comune, la intendiamo come un modo, il fatto, la intendiamo in senso positivo. È un'accezione positiva del termine. È vero, è vero. Quindi l'empatia è quella. In realtà, se noi andiamo a vedere il termine tecnico di empatia, proprio asciugato da questi discorsi qui, è invece un discorso per cui l'altra persona sente, sperimenta e comunque ha ben presente che cosa ha provato. Ora, per mettere un atto di cyberbullismo, io devo ben sapere, attenzione, parliamo di atti di cyberbullismo intenzionali adesso, perché anche lì poi c'è tutta una galassia dietro da distinguere, però se noi parliamo di cyberbullismo in senso intenzionale, quindi volutamente, che scatto la foto al mio compagno di classe, poi ci metto il meme e così via, e poi lo ricondivido, io devo ben avere presente che cosa provocherà nel mio compagno. E anche ovviamente in tutti gli altri. Perché? Perché la vera finalità del cyberbullismo è la viralità. A differenza del bullismo, quello che potremmo definire tradizionale, che lì erano altri discorsi. La viralità non c'era, anzi, sì, magari c'era quello che si faceva il bello, il gradasso davanti al gruppo, però molte volte accadeva dietro l'angolo, proprio per non farsi scoprire, ad esempio. Assolutamente. Invece nel caso del cyberbullismo si aggiunge questo elemento della viralità. Io dico sempre che un atto di cyberbullismo che non diventa virale è un flop. Quindi, questo per dire che se io voglio intenzionalmente commettere un atto di cyberbullismo, devo avere ben presente che cosa passa nella testa, anche di tutte le altre persone, affinché poi lo ricondividano, e sia anche nei confronti del, definiamo la vittima, giusto per categorizzare, anche se è sempre sbagliato, però, nel caso, appunto, nei confronti della vittima, per sapere, appunto, che riuscirò ad andarla a colpire. In molti casi si parla di più di moral disengagement, disingaggio morale, che è una cosa un po' diversa dall'empatia, comunque. Quindi, anche lì bisogna fare un po' di attenzione. Sai che è la prima volta che sento disingaggio morale e, filosoficamente parlando, è affascinante come terminologia. Innanzitutto perché la filosofia dal Novecento in avanti si è dibattuta sul tracciare una netta linea di confine tra l'etica e la morale. E le conclusioni a cui siamo giunti è che l'etica è qualcosa di supremo e universale, la morale è qualcosa di relativo individuale. Quindi, disingaggio morale è di fatto il venir meno di un riconoscimento soggettivo in quelle che sono regole morali di coesistenza sociale. Di fatto, è interessante anche dal punto di vista filosofico, capisci? Quindi, io riconosco un modo di interpretare il principio assoluto di bene in maniera distonica rispetto a quello in cui si ritrova la società. Cioè, si potrebbe, quindi, non dico giustificare il cyberbullo o comunque questa forma che tu hai appena descritto con queste parole. Però, entrare in dettaglio sulle leve motivazionali ci permette anche di creare un distinguo tra questa grande generalizzazione. Tutti quanti sono cyberbulli. Eh no! Già tu hai messo dei paletti. E allora, io provocatoriamente invece ti riporto su una definizione quasi clinica di cyberbullo e chiedendoti in ciò che viene definito in ambito clinico come un atto di cyberbullismo qual è lo scopo a cui tende consapevolmente o inconsapevolmente il bullo? Perché tu mi dissi di prima un atto di cyberbullismo che non diventa virale è un flop. Allora, qual è la vera motivazione? Beh, allora, principalmente l'umiliazione psicologica della vittima. Avveniva anche nel bullismo tradizionale però questo ovviamente avveniva con metodi molto molto precisici che andiamo a vedere. O comunque, esatto, privato. Era più un discorso personale se andiamo a vedere. In questo caso invece abbiamo appunto questo ossia il come posso spiegarlo il ecco sì, sì quella lì l'umiliazione psicologica della vittima che poi può portare lo sappiamo benissimo anche a conseguenze molto estreme e come avete detto anche voi ieri sì comunque poi comunque sia bullo che vittima e anche gli spettatori e anche chi non c'entra nulla con gli spettatori e poi ci sono anche delle ricerche a riguardo riportano i segni addirittura per molto tempo addirittura sono state trovate tracce anche a distanza di una decina d'anni caspita ad esempio sì sì ad esempio sul luogo del lavoro sul luogo di lavoro perché ipotizziamo ragazzini di 15 anni dopo 10 anni ne ha 25 e entra nel ciclo produttivo come viene definito infatti ieri io l'ho portata questa tematica sul tavolo del nostro podcast perché dico ragazzi attenzione non è che riguarda solamente dei neoadolescenti perché atti di bullismo sono presenti sui luoghi di lavoro ai danni della donna ai danni dell'emarginato ai danni dell'immigrato ai danni del diverso e quindi è importante notare e puntare il dito sul fatto che è un fatto sociale e non di tipo generazionale una cosa che a me che a me disturba ma che non posso fare a meno di realizzare questa io capisco dinamiche non le giustifico ma comprendo che ci siano dinamiche egoiche di supremazia territoriale sai il bulletto che incontra quell'altro e dice qui la legge sono io ok ridicolo se vuoi però le capisco perché è un fatto quasi etologico animalesco la cosa che invece fatico ad accettare pienamente del bullismo cyberbullismo scusami è che quasi l'agnentamento dell'altro è molto più importante del riconoscimento individuale cioè per me bullo è molto più importante distruggere l'altro che non prendermi il merito della sua distruzione utilizzando quasi l'anonimato dei social io ieri raccontavo alcuni episodi più o meno traumatici non sono stati così traumatici perché erano di uso comune nel mio paese di quando le prendevo dal bullo di paese e lui innanzitutto mi prendeva da un lato lontano dal mainstream del cortile me ne dava di santa ragione ok e poi faceva lo spaccone come quello che gli ha dato la lezione oggi sembra quasi non tanto più importante affermare se stesso nel microcosmo del cortile ma quasi annientare lui chi è stato non importa sai i profili falsi e tutta quella roba lì avere almeno il coraggio di dire sono stato io ci metto la faccia la capirei un po' di più sono stato quello che ha decapitato il re sai quando tu devi affermarti in un territorio devi trovare più forte il territorio decapitare il re e dire io sono il nuovo re ok quindi morto il re lunga vita il re lì invece il cyberbullismo assume quasi un'ombra di anonimato fino a un certo punto perché poi con il digital tu sai che la privacy non esiste di fatto si scoprono che però mi fa fatica entrare nella mente del cyberbullo e comprendere l'origine di questo dolore che porta appunto all'atto di bullismo mi aiuti a entrare nella sua mente per capire qual è lo scopo sicuramente allora diciamo che principalmente in questi casi perché poi appunto abbiamo tanti tipi differenti di cyberbullismo in questo caso possiamo tranquillamente dire che il cyberbullismo il lato di cyberbullismo diventa per il cyberbullo un modo per tra virgolette scaricare un proprio disagio interiore e torniamo sempre al solito discorso dei disagi interiori ora fatto come però attraverso lo specchio ossia è come se in quel momento oppure dai e ridai un posto dietro là dopo l'altro e così via l'altra persona diventasse uno specchio uno specchio del mio disagio pensiamo ad esempio il ragazzino ma anche l'adulto tutto sommato come hai detto tu e coinvolge tutta l'età praticamente abbiamo quindi il ragazzino chi per esso che appunto sta vivendo una situazione di particolare disagio a quel punto che cosa succede? succede che inizia ad incrociare i post della vita ovviamente patinata perché siamo sui social di un'altra persona allora ecco che man mano tutto questo vedere l'altra propria la vita dell'altra persona in questo modo in qualche modo è un po' come se ci mettesse davanti ad uno specchio ossia iniziamo a fare i confronti sì e questo diventa poi inevitabile iniziamo a fare i confronti allora ecco che iniziamo a provare disagio perché? perché ripeto è come se ci trovassimo di fronte ad uno specchio a quel punto noi abbiamo adesso sto mettendo un po' semplice a un certo punto noi abbiamo due principali alternative anzi tre o ci chiudiamo noi stessi e viviamo nel nostro dolore conviviamo con il nostro dolore oppure ci muoviamo per all'interno della nostra vita per migliorare la nostra situazione in modo da non sperimentare più quel dolore oppure cosa facciamo? distruggiamo lo specchio per non provare più quel dolore allora ecco che in quel caso l'altra parte diventa uno specchio questo è un fenomeno che va un po' ad incrociarsi all'incirca col discorso di una parte dell'ex speech molto del trolling inteso proprio il trolling come quello che insulta così a piede libero le persone ad esempio dove infatti l'altra persona la vittima cioè non è un atto personale ma è legato al ruolo che in quel momento l'altra persona sta svolgendo secondo me per me ovviamente quindi abbiamo citato Chiara Ferragni che è costantemente vittima di tutto questo ma potremmo anche scendere un po' nelle persone non VIP e comunque teniamo questo quadro qui sai che posso farti un parallelismo che ti ha citato Chiara Ferragni prima perché io non la conoscevo o meglio so chi è perché si tratta di un personaggio mainstream ma al di là del suo ruolo non l'ho mai seguita non conoscevo bene la sua storia eccetera eccetera mi sono imbattuto nella sua capacità di creare narrazione content creation parzialmente non su Instagram dove io non ci sono ma nel podcast di Fedez con Luis Sal il muschio selvaggio devo dirti che questa ragazza ha una capacità di rimanere integra di fronte alle peggio accuse i peggio insulti che mi ha fatto entrare in forte empatia con lei tra l'altro nel contesto del podcast emerge come la sua storia sia affascinante sia una grande donna una donna di grande successo capace di gestire oltre l'apparenza di un bello scatto business molto complessi e media estremamente complessi però la cosa che mi ha che mi ha colpito di più è che lei è spesso subissata da haters di qualsiasi natura troll di qualsiasi natura che la offendono a livello personale a livello fisico a livello morale eccetera eccetera ma nel contesto del podcast lei sia stata incredibilmente apprezzata e quindi non posso non chiederti se il medium in cui una persona si riconosce che utilizza per esprimersi non influenza anche il tipo di pubblico che attrae perché lei quando pubblica una foto attrae su quel tipo di medium un tipo specifico di audience che forse si misura con la superficialità estetica nel momento in cui ti confronti con un altro tipo di pubblico che è quello del podcasting trovi allora lì si parla sempre di personaggi mainstream quindi trovi un po' di tutto però è molto più difficile che la gente lo attacchi personalmente anzi se si vanno a leggere i commenti la gente dice wow non pensavo che Chiara Ferragni fosse così interessante wow non pensavo che la storia fosse così appassionante come si è riuscita anche per il sottoscritto che di certo non è un fan dei Ferragni a dire caspita è la terza volta che la cito in un podcast a me ha colpito la sua capacità il suo approccio anche psicologico alla vita e piccoli trucchi che lei ha dato e ha detto guarda mi è venuto in mente questo trucco ne ho parlato anche col mio terapeuta e mi ha detto che è un buon trucco lei dice ogni volta che mi capita un problema nella vita quello che faccio è immaginarmi la protagonista di un film e pensare a quanto noioso sarebbe quel film se la storia di questa protagonista fluisse tutta in maniera lineare senza problemi e quindi piccoli problemi come arrivare a Los Angeles per un servizio fotografico come è capitato a lei e il tuo bagaglio è rimasto smarrito quindi non hai gli abiti per fare quella cosa lì potrebbe creare disagio nella maggior parte delle persone lei dice wow che magnifica avventura oggi l'opportunità di vivere la protagonista del mio film ora psicologia da bar dello sport potrai dire tu sì però sono piccoli trucchi che ti spiegano come il successo di quella persona è anche legato alla storia che racconta se stessa quindi ho fatto tutta sto pippone qua per dire una cosa c'è l'elemento del mezzo che definisce anche l'audience sì sì mai come in questo periodo il mezzo è anche il messaggio lo è sempre stato per carità però non solo il mezzo inteso sia come canale sia anche il mezzo attraverso il quale noi usufruiamo o se vogliamo dirla consumiamo questo canale questo contenuto noi sappiamo benissimo che lo stesso lo stesso contenuto consumato da un portatile o da un computer quindi parliamo anche con una certa dimensione dello schermo con una tastiera un mouse e così via è completamente differente a come noi consumiamo lo stesso identico contenuto su un tablet o addirittura su un cellulare pensiamo ad esempio alla lettura di articoli ma non solo quanto noi reggiamo davanti ad un video video lunghi video brevi vabbè i marketer se lo conoscono benissimo in base anche il dispositivo comunque il tipo di dispositivo fa tantissimo questo sicuramente c'è anche da dire che ti fermo un altro piccola considerazione addirittura nella lettura nella lettura leggere un libro in ebook e leggerlo in cartaceo cambia la tua esperienza emotiva della lettura in quanto tale sì quello anche proprio perché appunto con lo schermo poi dipende anche se è retroilluminato oppure no perché i retroilluminati stancano di più gli occhi quindi ecco che istintivamente noi tendiamo ad andare ad andare più veloci non leggiamo ogni singola riga ogni singola parola ma come si dice nel gergo facciamo scheme ossia andiamo saltiamo andiamo per punti e così via magari saltiamo capitoli paragrafi andiamo a beccare all'interno della riga la parolina che ci colpisce e poi partiamo da mi senti? sei un po' un po' disturbato un po' a scatti se vuoi provare ad uscire e rientrare aspetta un attimo facciamo così provo 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 ad uscire e rientrare dammi solo 30 secondi tranquillo 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 sono qua che chiudo un attimo tutto il resto un attimo solo tranquillo arrivo tranquillo sono qua sono qua allora nel frattempo faccio un piccolo recap del nostro ospite di oggi si chiama Ivan Ferrero psicologo digitale e delle nuove tecnologie invito tutti quanti ad andare sul suo canale youtube che si chiama psicologia e tecnologia il motivo per cui l'ho invitato in questa diretta è perché ieri abbiamo parlato di cyberbullismo e l'abbiamo fatto con un genitore preoccupato e con un maestro di karate che ha vissuto fenomeni di bullismo e commentando Ivan ieri ha dato delle considerazioni molto interessanti motivo per il quale io l'ho ingaggiato e gli ho detto senti mi sembri un ragazzo che ha tanto da dire e tanto da dare perché non ti unisci a noi e facciamo appunto una conversazione intorno a questi temi una delle cose che a me ha colpito delle considerazioni che abbiamo fatto già in queste prime battute è stato che effettivamente il mezzo lo strumento che noi utilizziamo non può essere considerato neutrale e io ho fatto l'esempio di Chiara Ferragni potevo farne mille altri quando uno comunica su Instagram mostra un aspetto di sé quando qualcuno fruisce dei contenuti di Instagram cerca e ricerca determinati aspetti di sé nel podcast è un altro film c'è un altro tipo di narrazione c'è un altro tipo di finalità probabilmente e il tipo di pubblico che attrai è comunque strettamente legato all'attitudine con cui ti poni con il mezzo ma anche legato al mezzo stesso adesso vedo che Ivan si sta provando a ricollegare vediamo se siamo più fortunati questa volta nel frattempo leggo alcuni dei commenti che ci sono arrivati c'è Stefano Ilari che scrive buongiorno ragazzi Elena Bizzotto che scrive ciao ragazzi sempre Stefano Ilari che commenta ciao Chiara Ferragni e dai salutiamolo anche Fedez salutiamo anche Fedez poi c'è Arianna Soffici che scrive questo commento tanti auguri ancora per il tuo compleanno di ieri Arianna scrive i famosi leoni da tastiera in riferimento alla conversazione che abbiamo fatto poc'anzi con Ivan e dice in età adulta che scrivono brutte cose usano l'anonimato per sfogare frustrazioni sugli altri è molto più facile criticare gli altri che cercare di migliorare se stessi grandissima verità poi Silvia Anderoletti che scrive buongiorno a tutti ecco tornato Ivan tra di noi aspetta che ti aggiungo e vediamo se questa volta funziona non ti vedo ma mi pare di sentirti prova a parlare ora ti vedo anche ciao Ivan mi senti? no mi sa che hai qualche problema di connessione con wifi o 4G nel frattempo chiedo aiuto ai nostri ascoltatori e magari se mi fate delle domande specifiche qua nella chat live su YouTube ne approfitto di questa piccola debacle che stiamo risolvendo per rispondere alle vostre domande o richieste d'approfondimento intorno al tema del cyberbullismo del bullismo di come gli strumenti digitali cambino la nostra comunicazione ma anche il modo in cui la gente interagisce con noi io ho la fortuna o il merito di aver scelto un mezzo primario che è quello della narrazione acustica la narrazione acustica attraverso queste live che faccio ogni giorno alle ore 12 o attraverso il mio canale telegram ne approfitto per fare una piccola marchetta eccolo qua lo trovate su t.me slash chi cercatova ogni giorno dono un piccolo contributo acustico una nota vocale un podcast di due minuti e mezzo questo mi porta nella scelta del mezzo ad attirare individualità che hanno voglia di contribuire hanno voglia di crescere hanno voglia di ascoltare spesso noi nel lodare il podcast ricordiamo che il podcast attinge la tradizione orale quello della narrazione acustica ma il vero protagonista del podcast è colui che ascolta è l'ascoltatore e mi ricordo sempre i pitagorici che erano un ordine esoterico iniziatico al di là di pitagora che viene considerato un matematico pitagora era un mistico colui che è riuscito addirittura a inventare a creare la parola filosofia che in greco significa devozione assoluta alla sapienza se tu volevi entrare nell'ordine magico ed esoterico dei pitagorici dovevi stare sette anni in silenzio perché perché secondo loro in questo sette anni di praticantato a livello minervale tu ti preparavi alla vera maestranza nella vita che sta nell'ascolto non nella magia della parola ecco partendo dai pitagorici dell'antichità arrivando ai giorni nostri per me il protagonista del podcasting chi sta facendo il vero esercizio non è il podcaster che parla ma è l'ascoltatore di podcast che erroneamente potrebbe considerare questo difficile ecco io ti assicuro che è molto facile anche in questo momento che è successo una piccola interferenza con il mio interlocutore con cui avevamo in mente di affrontare certi discorsi è molto è molto facile lui è scomparsi in questo momento ma stare davanti ad un microfono e parlare a voce alta è una forma di autoterapia ti fa stare bene quanti di voi per esempio parlano pensano a voce alta ecco dire le proprie considerazioni le proprie emozioni condividere le proprie storie di vita che ognuno ha è piuttosto facile la parte facile del lavoro la parte difficile invece è stare ad ascoltare io devo dirti che è una cosa che alleno ogni giorno nel podcast ogni mattina quando porto fuori la mia cagnolina a camminare ogni sera quando permetto a Londra di sorprendermi andando in questi vicoli passaggio attraverso dei parchi che conosco altri che non conosco magari e io continuo ad ascoltare podcast perché continuo ad allenare l'ascolto che è la vera maestranza della vita è un tipo di maestranza che si sperimenta quando si è genitori per esempio perché si potrebbe essere portati a pensare che il ruolo del genitore è quello del insegnante quello che ti spiega le regole della vita io credo il ruolo del genitore sia molto più legato per esempio all'apprendistato perché i bambini conoscono tutte le verità hanno tutta la magia dentro di loro anzi portarli a scuola si può solo che rovinare la magia che hanno dentro e per me la scuola dovrebbe fare meno danni possibili lo stesso dicasi per esempio nel ruolo del genitore non è che devi spiegare grandi cose ai bambini semmai sono loro che le spiegano a te ed essere genitori di fatto è mettersi all'ascolto di quell'individualità solo che tanta gente tanti genitori non si rendono conto di quanto i loro figli hanno da dire quanto i loro figli hanno da dare mi viene spesso in mente quando faccio i play date e quindi accolgo qui a casa degli amici dei miei figli per giocare e sai per intrattenerli io che cosa faccio li porto quando i miei studi di podcasting li coinvolgo faccio loro raccontare storie faccio loro condividere la loro esperienza di vita e quando arrivano i genitori faccio ascoltare il podcast che i loro figli hanno registrato rimangono impressionati dicono mio figlio questo mio figlio è stato in grado di raccontare questa storia e io dico sempre sì tuo figlio solo che magari sei troppo impegnato ad insegnargli cose e non ad allenare l'ascolto di tutta la magia che lui ha da dire e tutta la magia che lui ha da dare bentornato Ivan ciao mi sentite ora perfettamente ti vedo bene ci credi che ho provato non mi funzionava né con il wifi né senza né oggi proprio questa zona completamente la mia tesi la mia tesi è quella che noi sprigioniamo così tanta energia che sono saltate le reti a me stava saltando altro ma guarda può essere anche una cazzata però è bello raccontarsela così o no sì sì quello sicuramente per carità nel frattempo è entrata gente almeno ad esempio io questi commenti non li vedevo all'inizio quindi c'era già qualcosa che non andava dall'inizio va bene benissimo senti un po' io qua ho una domanda che ti voglio sottoporre perché la ritengo molto interessante ed è questa Arianna Soffi ci scrive mi piacerebbe che Ivan parlasse del dare e ricevere attenzione nel digitale il rischio di rincorrere i likes followers vanity metrics eccetera per i creators podcaster eccetera eccetera ok allora dipende questa è una domanda molto affascinante che a me sta molto a cuore perché ti dico questo perché quando la gente mi chiede ah voglio anch'io fare un podcast come il tuo da che cosa parto e io consiglio sempre di partire da telegram e di fare di telegram e tu hai un canale telegram lo so e tra poco ti chiederò di parlarne perché per me telegram sta diventando una delle piattaforme di podcasting più interessanti che esistono in circolazione e dico guarda allenati su telegram fallo per 21 giorni consecutivi e poi permetti al tuo linguaggio di plasmare la tua materia che è il pensiero e l'obiezione che ricevo è sempre la stessa mi dicono sì ma ma chi è che mi trova su telegram ma chi è che mi conosce su telegram c'è poca gente su telegram e io dico guarda che il fatto di dimenticare in una prima battuta nel tuo processo creativo non tanto la condivisione ma la ricerca di approvazione rende autentico il tuo artigianato perché spesso ognuno di noi è un artista un content creator un creatore di mondi ma talvolta la ricerca dell'approvazione gli fa corrompere il grande messaggio originale che potrebbe dare perché veste il contenuto su quello che la gente si aspetta lui dica o dia quindi qual è l'effetto psicologico della ricerca di followers e di likes beh allora lì c'è da c'è da considerare vari elementi perché anche lì un po' come accennavamo prima per il cyberbullismo il discorso il panorama è molto variegato allora sicuramente chi vuole farlo per business per chi vuole farlo per business questa visione deriva da una visione errata di quali sono le vere metriche da considerare perché perché se io non conosco minimamente il marketing digitale penso che avere like sia sinonimo di successo ma questo perché e quindi entramo un po' più nel sociale perché perché è anche così che i mass media ce lo propinano ad esempio quindi succede che e questo poi i ragazzi si sono particolarmente colpiti per via della loro età del fatto che la loro identità ancora in fase di informazione in fase di formazione e così via ossia l'idea che più hai like più gente che ti segue più sei di successo perché perché nostra società inevitabilmente si è spostata verso un discorso di spettacolarizzazione e anche noi adulti perdiamo di vista quello che poi alla fine è il tasso di conversione alla fine per cui tu puoi avere anche una pagina Facebook da un milione con un milione di fan ma non monetizzare minimamente perché non ce la fai perché puoi avere 100 fan e monetizzare da bestia proprio esatto quindi ecco attenzione e questo è un punto quindi la non conoscenza del marketing digitale unito al fatto che comunque e qui siamo dentro tutti c'è un po' questa rincorsa per l'esteriorità e questo sicuramente guarda mi permetti così un paragone diciamo che mille followers su Facebook Instagram valgono come 100 iscritti ad un canale YouTube valgono come 10 iscritti ad un canale Telegram il livello di coinvolgimento e ti racconto un aneddoto personale ce l'ho avuta anche ospite del mio podcast quando è stata la settimana scorsa la mia manager Manuela Ronchi è stata la manager di Pantani Alberto Tomba Max Biagi ha lavorato con Gerry Scotti una di quelle che la comunicazione l'ha vissuta a tutti i livelli avendo a che fare con personalità molto forte io sentivo che dovevo lavorare con lei non ero su Facebook non ero su Instagram mi ero tolto da tutti i social network ma un amico mi aveva mandato il suo numero di telefono e io una bella mattina mi sono svegliato volevo lei che mi rappresentasse ho acceso il telefono e le ho raccontato una storia di un minuto e mezzo del mondo che avrei voluto creare assieme a lei l'ho caricata su YouTube e gliel'ho mandato un messaggio Whatsapp con questo testo ciao Manuela questa mattina mi sono svegliato mi sei venuta a mente e ho creato questa storia per te e solo per te un link non elencato su YouTube ah ok lei è diventata la mia manager abbiamo fatto tantissimi progetti bellissimi assieme abbiamo guadagnato tanti soldi anche con il podcasting numeri davvero significativi per il podcasting italiano ti parlo di qualcosa come mezzo milione di sterline sviluppate in due anni e mezzo di lavoro che sono numeri che nessuno fa nel podcasting in Italia tutto nato non da diecimila followers a cui ho lanciato una call to action ma un messaggio comunicativo da una persona rivolta ad un'altra singola persona che l'ha fatta sentire speciale lei non aveva il mio numero becca questo messaggio vede il video e la risposta è stata mi hai stregata prendi il primo volo da Londra e vieni giù a Milano che fondiamo un'azienda assieme e così è stato storia racconta anche lei nel suo libro le relazioni non sono pericolose per dire che cosa che le relazioni quasi mai hanno un approccio quantitativo ma spesso la conoscenza individuale di una singola persona la capacità di creare valore ad una singola persona attraverso una storia che racconti per esempio in un podcast una nota vocale su telegram vale molto di più che le vanity metrics che ti fanno sentire ricco con i soldi del monopoli come si dice sì infatti alla fine è quello diciamo che in questo caso ha fatto tantissimo la forza della visione e della mission il classico vision mission quindi appunto alla fine tutto sommato noi citiamo sempre steve jobs steve jobs sì sicuramente sapeva il fatto suo non era uno degli ultimi sicuramente per carità però lui a suo tempo è stato in grado di conquistare tutto quello che poi ben conosciamo grazie alla forza della visione e della missione questo sicuramente esatto c'era io per subito dopo la laurea ho vissuto un annetto più o meno di esperienza come promotore assicurativo perché volevo imparare eh sì ormai quando ero piccolo volevo imparare le basi della comunicazione allora siccome ero neolaureato cioè tradotto non avevo un lavoro allora ho detto vabbè dai dove che vado dove per vivere devi imparare a comunicare e quindi anche vendere in quel caso vabbè però e allora avevo trovato questo impiego diciamo poi ovviamente era un rapporto di collaborazione come capita sempre e ok e mi ricordo che c'era il mio supervisore uno che concludeva aveva un tasso di conversione di due su tre di conclusione due su tre fenomeno era una bestia questo sì sì e senza spingere nel senso che lui vedeva che cosa aveva di che cosa aveva bisogno ed era bravo a proporlo cioè non era uno che ti vendeva le cose quando non ne avevi bisogno le polizie a caso ecco ecco quindi era una bestia e lui mi diceva guarda Ivan che se tu per concludere devi scendere nei dettagli tecnici delle percentuali dei tassi di interesse della polizia eccetera eccetera hai perso perché la gente deve fidarsi di te punto deve prima di tutto devo guardare la tua persona se devi scendere a spiegare no ma guardi che questa polizia rispetto all'altra copre di più tre giorni in più eccetera eccetera ma posso dire una cosa Ivan quindi guarda io ho delle assicurazioni chiamami il responsabile ci credi che non mi ricordo i dettagli di quello che ho firmato ma mi ricordo che mi fidavo di quello che me l'ha fatto scrivere cioè quando quando tu trasmetti ho capito le tue esigenze questo è mi voglio serve una laurea in legge per capire i contratti assicurativi e guarda su questo mi fa venire in mente un aneddoto che non ho mai raccontato nel podcast però io non posso far a meno di considerare la tua esperienza in ambito assicurativo un qualcosa che unendo i puntini nella citazione di Steve Jobs ha formato anche la tua disinvoltura comunicativa ti ha aiutato a comunicare a calibrare a sviluppare competenze anche commerciali oltre che tecniche cliniche certo e mi viene in mente il fatto che io ho nel campo della formazione ho lavorato diversi anni tenendo speech alle convention cosa che faccio tuttora tenendo corsi di formazione cosa che adesso non faccio più ho formato qualcosa come 5-6 mila persone all'anno per 5 anni di fila quindi decine di migliaia di persone ho fatto nell'ambito della programmazione neurolinguistica della comunicazione della negoziazione strategica eccetera eccetera il fatto è che io ero un aspirante ambizioso filosofo che voleva fermarsi nel mondo della formazione italiana che ti dà delle chance e io ho cominciato nel mondo della formazione con un'istituzione come NLP Italy che rappresentava la PNL in Italia vendendo libri e loro facevano queste queste conferenze di presentazione che servivano per far conoscere la programmazione neurolinguistica e poi vendere i vari practitioner master practitioner scuola di PNL scuola di coaching eccetera eccetera io ero lo sfigato che partiva la mattina dal Trentino con la sua vecchia Passat la caricava di libri dove siamo oggi Roma benissimo parto alle tre e mezza di mattina alle otto e mezza ero lì all'estivo tutto l'ambaradan tempo di accogliere il trainer che era una divinità non mangiavo con lui perché non ero degno era uno sfigato di assistente e poi disponevo i miei libri e vendevo i libri di PNL finché a certo punto il mio capo di allora che si chiamava Alessio Roberti mi dice scusami ma chiamatemi sto ragazzino qua io dico cazzo mi vuoi licenziare no che cosa ho combinato è la mia grande occasione e lui mi convoca e mi fa mi spieghi per quale cazzo di motivo quando facciamo le conferenze di PNL tu vendi in controvalore più libri di fatturato rispetto alla capacità del trainer di vendere corsi cioè tu fai una conferenza e mi vendi qualcosa come 3700 euro di libri costo 19 euro l'uno quindi ne devi vendere una massa mi spieghi come cavolo fai e io dicevo non lo so sinceramente allora mi metto accanto un trainer per imparare come io vendevo i libri e scopro una cosa uno i libri li avevo letti a differenza della maggior parte della gente che vendeva i libri ma non li conosceva due sapevo riconoscere chi era lì per chiacchierare e chi era lì per comprare e io vendevo solo la gente che volevo comprare sai io avevo uno slot di una pausa durante una conferenza e lì mi giocavo tutto e siccome prendevo il 10% dei libri io dovevo pagare l'affitto il mutuo la latta della macchina tutto quindi vendevo 3700 euro di libri e me ne portavo a casa 370 di commissione e quindi dovevo vendere avevo poco tempo per farlo hai la fame hai la conoscenza capisci chi è lì per comprare e soprattutto riconosci il bisogno che con quel libro soddisfi punto fatto sta che lui poi mi ha detto senti lascia stare a vendere libri vieni tu a fare il trainer e così io ho esordito un certo punto sì ecco la questione la questione è che appunto il fatto della rincorsa ai numerini rischia di farci perdere di vista tutto questo che poi è la sostanza ed è quello che rischiano di perdere di vista i nostri ragazzi anche noi adulti in realtà ma anche i nostri ragazzi e vabbè riguardo ai nostri ragazzi c'è anche tutta una narrazione che vuole questo perché? perché è più facile ad esempio io vedo se voi fate caso nelle trasmissioni ad esempio musicali tipo quelli dell'estate tipici rivolti ai ragazzi quando introducono il cantante o il gruppo dicono sempre il numero di views di youtube ad esempio che noi sappiamo benissimo che in realtà sì che figo ma alla fine adesso io non voglio dire però c'era anche una subretto non faccio nomi che aveva molto famosa nel mondo della televisione fino a qualche anno fa che poi ad un certo punto ha deciso visto la popolarità faccio un disco perché poi tutti sanno cantare basta avere ok autotuning esatto incido il disco ha messo il primo singolo di promo su youtube ha realizzato tipo un milione di views allora poi ha organizzato insieme al suo manager è così il primo concerto certo un po' ristretto adesso non ricordo forse a Raw forse non mi ricordo dove ovvio non era uno stadio e alla fine tipo avranno venduto tipo 20-30 biglietti capisci capisci per dire e certo scusa adesso divento anche io con i francesismi certo che se tu metti un video di youtube dove mostri di tutto di più se anche una grandissima gnocca va bene sicuramente una gran bella donna ci mancherebbe e quelle views non sono non è gente che va a vedere il tuo che va a ascoltare quanto sai cantare bene è ovvio va a vedere quello che tu hai da mostrare proprio nel vero senso della parola magari qualcuno incuriosito e diciamo la tizia pubblicato andiamo a sentire quante cagne a cantare ad esempio esatto e così via il suo il suo sbaglio ma anche del manager mi chiedo come abbiano fatto sottovalutare questa cosa è stato quello di pensare un milione di views avevano detto ma vuoi che una piccola percentuale non venga al nostro concerto evidentemente no è stato un flop pazzesco Ivan ti ringrazio per averlo detto quanto vedi anche ciascuno abbia il proprio mezzo se tu vai da un consulente digital ti dice no no devi essere ovunque se tu senti Gary Vaynerchuk ti dice no no devi essere su TikTok devi fare contenuti nativi per Instagram devi aprire il tuo podcast e di minchia e lavoro dormo anche ogni tanto ho una vita no devi produrre content 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 si lui ce l'ha con questa storia ce l'ha con questa storia allora io conosco ti lancio una provocazione che ti farà far apparire sottoscritto come un frustrato io adoro adoro follemente la radio adoro follemente la radio e la mia radio si chiama podcast ma mi sono innamorato della narrazione acustica perché da ragazzino ascoltavo le radio notturne in cui si facevano dibattiti si raccontavano storie la Tolcredio che mi rendo conto oggi non c'è più oggi la Tolcredio di cui io mi sono innamorato della Tolcredio degli anni 60 70 80 soprattutto quella degli Alan Berg per esempio che mostrava l'ipocrisia americana su cui Oliver Stone ci ha fatto anche un film non esiste più in Italia chi la fa forse Cruciani con la Zanzara ma anche lì c'è una ricerca del sensazionalismo costante vedi che qua ce l'ho scritto anch'io Tova vuole fare radio ok ma mi rendo conto che la mia radio è YouTube perché nella radio mainstream che cos'è che accade accade che diletta le otta bellissima è oggettivo che è brutta diletta le otta no è una bellissima ragazza ok ha quanti milioni di followers non lo so tantissimi e viene presa da radio 105 per condurre un programma radio perché il ragionamento di chi deve vendere tabellari deve vendere pubblicità deve vendere sponsor eccetera eccetera dice sai diletta le otta vuoi che qualcuno di quei 7 milioni e mezzo non ascolti la sua trasmissione risposta no perché la gente che segue diletta le otta su Instagram lo fa perché è malato un po' di figa perché ha bisogno di vedere il culo le tette le cose e commentare in modo indecente le sue foto non è che tu segui diletta le otta per la sua capacità narrativa per la sua capacità di storytelling ed engagement del pubblico no la segui perché è figa punto ma l'errore che si fa è dire sai un tot a chilo ne hai 10 milioni di là e vuoi che un milione non ti ascolti esatto ma no esatto esatto il problema è che tutto questo noi rischiamo di trasferirlo ai nostri ragazzi non solo ai nostri ragazzi ma ripeto anche noi perché perché poi dopo di riflesso viene fuori che quindi uscendo dal discorso io pubblico sui social media per business marketing per la mia professione anche chi invece un attimo scusate ok oggi tutti anche Safari che deve aggiornarsi vabbè comunque stavo dicendo oggi proprio però poi verranno a rapirmi gli alieni quindi facciamo veloci che di scomparire da un momento all'altro sai cosa mi viene in mente come sta andando la mattina quel famoso quel famoso aforisma che dice se il destino ci ha verso peggio per lui ecco mettiamo un po' di epica in questo podcast se il destino ci ha verso peggio per lui è vero è vero dai potremmo anche andare avanti con ciò che non ti uccide ti rende più forte vai vai esatto facciamo 31 e vai non so se chi ci ha ascoltato i luoghi comuni da buttare qui scrivete in fatti luogo comune a me viene in mente quello che girava nel mio paese natale che è chi una volta era tutta campagna che vuol dire qui una volta era tutta campagna lo dicevo in continuazione e quando io il mio miglior amico ci siamo trovati su un call sopra casa dei nostri genitori e dicevamo ma ti ricordi che qua una volta era tutta campagna mi fa lui e io dico Stefano stiamo invecchiando stiamo parlando come i nostri nonni solo che ancora non siamo nonni caspita io ho scoperto di iniziare che sto invecchiando quando i miei ragazzi iniziano a dire quando ero più giovane io quando ero giovane quando ero piccolo ho solo 45 anni dammi il tempo di invecchiare e comunque comunque quindi stiamo dicendo uscendo dal discorso appunto del social media per la professione viene fuori che tutto questo discorso viene veicolato come parametro di non solo di figaggine perché uno può anche sbatterse ma di quanto io valgo di quanto io valgo questo va ad incrociarsi comunque ad una tendenza che è comunissima in noi esseri umani fin dalla notte dei tempi perché siamo così strutturalmente geneticamente programmati per la riprova sociale e questo è inevitabile la differenza qual è che una volta la mia riprova sociale a me come Ivan Ferrero poteva essere data da 10-15 persone forse 20-30 perché gli altri passavo per strada sì che stavano a notare me per dire e così via oggi invece tutta questa riprova sociale è amplificata all'ennesima potenza ed è questo che poi genera tutto questo discorso come dicevamo agli inizi di questo podcast il digitale come amplificatore come megafono e come un amplificatore di segnale da questo punto di vista non si è inventato nulla da questo punto di vista intendiamo quello che quello che io dico sempre anche quando faccio la formazione soprattutto con gli educatori con i docenti è quello di fare sempre attenzione e distinguere tra cosa il digitale ha veramente generato di nuovo e che cosa ha semplicemente prelevato da ciò che esisteva già prima e l'ha portato dentro di sé poi dentro di sé inizia a godere di vita di vita propria e di regole sue che sono che sono completamente differenti dall'offline su questo siamo tutti d'accordo però attenzione perché poi in questo rientrano appunto il discorso del cyberbullismo la dipendenza da internet e così via il cyberbullismo da instagram io vorrei approfondire con te da instagram proprio così ci banna direttamente da instagram dal digital in generale perché io adesso sembra brutto perché parli dei figli degli altri e non dei tuoi quindi prendi la buona intenzione di questo i miei figli hanno dieci anni e sette anni e a me pare normale che non abbiano un telefono cellulare mi pare normale e neanche loro me lo richiedono non è proprio una loro priorità ti racconto questa che si sta parlando di un'alternativa a Londra Londra col covid è cambiata tantissimo c'è brexit all'orizzonte stiamo mettendo un po' in discussione degli assunti e io ho sempre detto se cambio per Londra non cambio per andare a Milano cambio per fare proprio un cambiamento di vita tornare alla vita a Grest nei campi a contatto con la natura capisco di più prendere un rifugio di montagna che non prendere un attico a Milano tutta questa contestualizzazione qua per dirti che i miei figli non mi chiedono un telefono cellulare ma mi chiedono un domani una moto da cross eh ma sai nei campi che bello andare a fare i salti con la moto da cross ma capisco di più un bambino che a dieci anni mi dice mi piacerebbe andare con la moto da cross che non vorrei un telefono per vedere youtube o fare live streaming mi spiego però noto che già nella tenera età parlo di nove e dieci anni spesso vedo dei bambini paralizzati davanti a un telefono a guardare video e ritengo sia una cosa molto preoccupante e sul cui impatto psicologico neurologico fisico forse non abbiamo ancora sufficienti dati per capire quanto male faccia quella roba perché io mi accorgo che è uno strumento di modificazione comportamentale cioè i bambini tendono quando utilizzano tanto questi strumenti a non parlare tra di loro a isolarsi diventano nervosi diventano introspettivi nella sessione negativa tendono a non parlare non esporre a non raccontarti il loro mondo interiore mentre ad esempio adesso io sono malato di podcasting quindi per me se ognuno facesse un podcast e se uno si allenasse ad ascoltare podcast il mondo sarebbe un luogo un luogo migliore vedo che quando i bambini invece li porti nel mio studio qua quando facciamo i play date ne lo raccontavo prima quando è accaduta la connessione per te e dico bambini raccontatemi la vostra storia qual è il vostro giocattolo preferito in che modo con quel giocattolo volete costruire il vostro lavoro del futuro e li faccio viaggiare nel tempo partendo dalle loro passioni i bambini entrano veramente in uno stato risorsa cambia il loro corpo e il lato negativo qual è? che quando i genitori li vengono a prendere tutti quanti dicono io da grande voglio fare il podcaster adesso vogliono fare tutti quanti il podcaster però è bello perché se ho resi conto che lì posso raccontare una storia mentre credo alcuni strumenti digitali cambino in senso negativo le emozioni che il bambino prova e quanto è problematico a dieci anni la ricerca dell'approvazione il misurare quanto vali nel numero di persone a cui piaci sicuramente è distorto nel senso che ok tutto questo ok la questione qual è è che in realtà alla fine tutti questi social network vanno non si inventano anche lì nulla di nuovo tutto questo discorso della manipolazione queste robe così in realtà il discorso è molto differente ossia questi social network vanno ad intercettare delle psicologie di noi esseri umani oppure di una fascia di noi esseri umani e poi sicuramente dentro ci sono degli esperti che sanno come fare per registrarsela e così via questo sicuramente però se andiamo a vedere sono comunque tutte tendenze che noi abbiamo sempre avuto la questione è la scalabilità ora sicuramente tutto questo che hai detto tu può essere veramente un problema anche se in realtà molte ricerche stanno più propendendo verso non è il social network che modifica il nostro cervello ma siamo noi che troviamo nel social network la modalità tra virgolette richiesta dal nostro cervello certo adesso vabbè dovrei entrare un po' nelle neuroscienze però comunque ci sono vari esempi riguardo riguardo a questo ossia ci sono allora la fotografia è quella ma è solamente una fotografia se non osserviamo il film molto spesso ci ritroviamo a dover invertire il rapporto di causa ed effetto ossia il social network mi rende ansioso oppure sono io che sono così ansioso che non riesco più a smettere di scrollare il castigo gesto tac 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 sul mio social network c'è stato ad esempio un periodo in cui si scattava attraverso le ricerche si scattava la fotografia per cui si trovava veramente una correlazione positiva in questo caso tra quanto io proprio insistentemente sto lì sul social network tipo il social network blu e così via tac 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 a scrollare 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 e lo stato di ansia il mio stato di ansia però poi andando ad indagare si è scoperto che molto probabilmente anche lì faranno altre ricerche sicuramente ma molto probabilmente il rapporto di causa effetto è inverso ossia io che sfogo tra virgolette esprimo la mia ansia su questa possibilità qui ad esempio così come l'aggressività e via di questo passo non sto dicendo che i social network siano il paradiso perché comunque sicuramente mi dici tu stanno modificando comunque la vita delle nostre persone al di là del bene e del male perché anche in bene se vogliamo perché abbiamo a quel punto gli anziani che ritrovano in facebook un'opportunità di socializzazione tradotto in vecchiano meglio assolutamente perché sapevo benissimo che la socializzazione aiuta anche attraverso vari modi ad ammalarsi di meno e così via però a quel punto io dovrei andare a guardare quindi non i social network di turno ma la società perché con la società di oggi vabbè al di là del bene e del male ripeto gli anziani si ritrovano ad essere soli ma nel senso proprio di distanti dei loro affetti non dico soli nel senso abbandonati ovviamente ok e allora ecco che in questo discorso i social network entrano perché sotto sotto intercettano questa possibilità di socializzare magari con vecchi amici dispersi per il mondo per questioni di vita e allora ecco che mi permettono di socializzare e così via come ad esempio il famoso discorso degli ikikomori per cui c'è questa pessima e deleteria narrazione i ragazzi si richiudono in casa perché stanno sempre attaccati ai videogiochi mentre invece è l'esatto opposto cioè i ragazzi prima si richiudono in casa e poi dico fortunatamente c'è internet che qualche modo gli lascia una finestra aperta verso il mondo perché altrimenti sarebbero tappati sempre in casa e zero contatti e boom i videogiochi che rendono violenti ma di che semmai sono senti tu sei tu sei del 75 esatto benissimo io sono dell'80 ti ricordi che ai tempi nostri c'era Wolfenstein 3D hai voglia c'era anche allora e tu davi giro Armageddon Armageddon vedevi solo e ammazzavi i nazisti ragazzi c'era anche al tempo non è che è una dimensione recente anzi oggi la tecnologia ti consente di giocarci assieme io penso per esempio qua in Inghilterra c'è il lockdown a degli adolescenti il bisogno di stare assieme fare cose assieme e il digital che le mette nelle condizioni di farlo giochiamo assieme a quel gioco sì esatto esatto dobbiamo considerare che allora il digitale per i nostri ragazzi ha lo stesso identico anche per noi ma per i nostri ragazzi di più ha lo stesso identico valore del non digitale sempre che possa ancora esistere questa distinzione quindi come noi adulti magari giochiamo con i nostri figli a calcio quando magari siamo in un parco quando usciamo insieme allora giochiamo a calcio a pallacanestro quello che è perché allo stesso modo non possiamo giocare insieme a Call of Duty certo perché allo stesso modo non possiamo giocare insieme Mario Kart è un po' più semplice perché in genere è una fascia di età un po' più piccola quindi i bambini sono ancora più problemi tuoi figli? no no non ancora beh hai citato due giochi a cui io gioco cioè Mario Kart sfido qualsiasi adulto a non divertirsi mettendosi davanti a Mario Kart è bello è impossibile è bello poi ti 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 è divertente il vero grosso errore che vedo fare da parte di tantissimi adulti è quello di considerare il digitale come un pezzo a parte completamente separato dal non digitale perché? perché noi arriviamo più o meno, chi più chi meno da un mondo che non era digitale e poi è arrivato il digitale, quindi noi abbiamo ancora questa visione del digitale e non digitale, noi distinguiamo ancora gli amici veri dagli amici di Facebook per dire, robe così come se gli amici di Facebook in realtà conosco persone su Facebook in modo puramente virtuale però ha della grandissima stima non ci siamo mai visti per questioni di distanza però cavoli, comunque le relazioni si instaurano sicuramente, quindi invece per i nostri ragazzi questa distinzione assolutamente non esiste, se noi vogliamo riuscire a stare con i nostri ragazzi dobbiamo imparare a rimuovere questa distinzione o almeno quando abbiamo a che fare con loro ovviamente, poi noi ce la teniamo va benissimo, ci mancherebbe è una nominalizzazione linguistica che svela il loro mondo, loro li chiamano amici perché sono amici ci giocano assieme parlano assieme litigano, si mollano si ripigliano si conoscono su Instagram e dopo si trovano dal vivo anche ragazzi che abitano al di là della strada oppure tipo il ragazzino che mi dice ah sto scendo con una dove? ma non è nella mia scuola ma è in una scuola che c'è esattamente dall'altra parte del mio capitato è dall'altra parte della strada faccio ah ma quindi com'è che vi siete conosciuti tramite amici oppure quando uscivate da scuola vi siete notati vi siete no no su Instagram vuol dire prima si sono conosciuti su Instagram e poi dopo erano vicinissimi hanno iniziato a uscire insieme e questo è il processo ma Ivan non è la stessa cosa che stiamo facendo io e te cioè noi se non fossimo in questo social media che si chiama YouTube che ci dà l'opportunità di raccontare di ricerca fine in ambiti diversi è una questione che ci sta molto a cuore e parlando assieme stiamo creando valore per chi ascolta per chi ci segue in diretta per chi ascolterà questo podcast indifferita noi stiamo creando una relazione quando un giorno me lo auguro ci vedremo dal vivo non ci incontriamo come due stranei cioè ci incontriamo con due persone che hanno creato già qualcosa di speciale assieme allora non è da biasimare to course la cosa esatto esatto assolutamente sono mezzi per socializzare quindi vedete che di nuovo fate conto che noi stiamo continuando a parlare degli esseri umani e non dei social network perché il fulcro è questo l'essere umano punto è vero che c'è un algoritmo non cito un noto docufilm che sta girando in questo periodo che però è tremendamente tendenzioso baglia cosa dilemma sì possiamo anche dire che lo ospitano su Netflix e vai è così è così però ad esempio piccolo ragionamento extra social dilemma castigano tantissimi social network appunto lamentando le stesse cose che poi fa anche Netflix identico è troppo comodo così identico Netflix ti paga allora non parliamo dei servizi streaming in tv parliamo solo di social network o non parliamo che ne so di Amazon Prime e dei miliardi che prende Amazon ogni anno 10 miliardi di dollari solo dalla CIA per vendere informazioni private sui tuoi acquisti solo negli Stati Uniti d'America non ne parliamo allora vedi qua è la tastica della manipolazione mediatica che è un argomento che a me è stato molto a cuore della distrazione se io punto tutta la tua attenzione creando questo sensazionalistico scalpore contro quello là allora io ne esco virtuoso esatto non funziona così perché tu appartieni a quello stesso mondo esatto allora possono essere vere per quanto tendenziose le cose che racconti ma non è un'indagine obiettiva e cronistica perché tu stai escludendo una parte fondamentale che è il binge watching quanta gente stia su Amazon Prime quanta gente stia su un età esatto eccetera eccetera quindi esatto il fenomeno del binge watching ad esempio è uno di questi tant'è vero che tantissimo ad esempio durante la preparazione di questo docufilm molti ricercatori si sono offerti di porre il loro contributo non sono stati minimamente ascoltati ad esempio ovviamente per cui ecco ci sono tutte queste situazioni qui però ecco per arrivare a dire che come vedete in realtà ci stanno sempre alla base delle nostre azioni poi più o meno pilotate o meno condizionate questo è un altro discorso ma il fulcro parte tutto da noi questo ad esempio su tiktok io uso tiktok cioè non lo uso in realtà studio tiktok perché non ci metto le mie robe però lo studio ma chissà perché se voi aprite il mio canto di tiktok non troverete mai i ballettini che noi definiamo i ballettini stupidi e così via che dicono che tiktok è quello delle cose sceme trovate quello che ti spiega la meditazione scene di attivismo sociale in giro per il mondo gente che parla di psicologia perché seguo anche colleghi e così via perché trovi quello che cerchi trovi quello che cerchi esatto quindi sono io ad indicare all'algoritmo che cosa mi interessa e l'algoritmo agisce di conseguenza quindi è quello il fulcro noi possiamo veramente ritornare entro certi limiti d'accordo ma in in possesso delle nostre scelte come semplicemente diventandone consapevoli punto c'è l'algoritmo ok c'è ok io sono anche conscio che l'algoritmo rischia di infilarmi in una bolla sociale ok allora ho il coraggio di uscire da questa bolla e magari commentare in un posto che è completamente in contraddizione con quello che dico io anche magari finendo per litigare qualcuno attraverso i commenti ma è un litigio che mi aiuta a crescere non è un litigio del tipo ho ragione io tu crepa è un litigio che mi aiuta che mi aiuta a crescere e così via però come vedete siamo sempre noi punto questa narrazione per cui esiste l'uomo nero questo discorso di del appunto dei social network che dall'alto manovrano e tutto quanto rischia come effetto collaterale di privare noi di un potere verso noi stessi che è un po' la stessa cosa al di fuori del digitale del piove governo ladro ok quindi usciamo 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 per strada c'è la cartaccia per terra e diciamo il comune non si degna neanche di pulire le strade no non è il comune che deve pulire le strade siamo noi che non dobbiamo gettare le carte per terra capite e questo viene sparato a mille la responsabilità personale questo viene sparato a mille quando poi ci troviamo appunto su social network di Tuna diciamo l'algoritmo che mi presenta sempre temi stupidi ciccio ma se l'algoritmo ti profila analizza le tue scelte dentro e magari anche di fuori eccetera eccetera se ad un certo punto ti presenta un post cretino fatti delle domande su te stesso non sull'algoritmo che cavolo scusate ma poi scatta l'attivista digitale che è in me io parto sempre neutro quando parlo però poi mi viene in mente poi non ce la faccio perché dai dimmi chi sei e ti dirò che algoritmo hai verrebbe da dire peggio dimmi che posto ti arrivo vedi e ti dirò chi sei dimmi che algoritmo hai e ti dirò chi sei veramente talmente tutto così personalizzato non è come una volta che ok nel mainstream ovvio la televisione più o meno si suddivideva fasce orarie ma relativamente ovviamente oggi veramente c'è questa roba che proprio ti entrano le sponsorizzate o i post con una precisione chirurgica pazzesca quindi è una cosa che io e ci azzeccano esatto ad esempio quando io faccio i laboratori con i ragazzi soprattutto quelli magari un po' più grandicelli faccio proprio questo esperimento ossia aprite magari sono tutti su Instagram io dico aprite la vostra app di Instagram fermatevi alla prima sponsorizzata che trovate poi diventa anche interessante vedere quanto corrisponde ai tuoi gusti quanto corrisponde ai tuoi interessi e così via poi in alcuni casi diventa anche divertente fare l'opposto ossia senza dire nulla mostra la sponsorizzata agli altri del gruppo e gli altri del gruppo che devono commentare che cosa questa sponsorizzata dice sulla persona vedete la consapevolezza questo è molto importante perché è divertente sotto forma di gioco fare come dici tu guardate questa sponsorizzata e provate a indovinare di chi appartiene a chi appartiene questo telefono tracciamo un profiling di questa persona delle sponsorizzazioni è divertente volevo dire una minchiata che è totalmente superflua nel nostro podcast però io sono massimo esperto cintura nera di minchiate e allora volevo dirtela tu hai esatto un'espressione prima piove governo ladro sai da cosa deriva sta cosa sai che non ho mai indagato ma io perdo tempo a indagare cose di cui a nessuno frega un cazzo però visto che l'ho imparata sta cosa te la dico siamo a Firenze nei tempi del gran ducato di Leopoldo che è famoso per essere un gran duca parecchio tirchio perché non amava non amava gli sprechi e da un certo punto lui costruisce un impianto per lo smaltimento delle acque piovane e decide di farlo pagare con una tassazione ai fiorentini come stabilisci questa tassazione in base alla proporzione annua di giorni di pioggia quindi in quest'anno è piovuto che ne so 50 giorni vi verranno tassati solo 50 giorni perché saranno utilizzati quegli impianti proprio per smaltimento di quell'acqua che piove dal cielo per questo nella Firenze del Gran Duca veniva fuori piove governo ladro perché quel giorno dovrò pagare le tasse dovrò pagare le tasse fa la danza della immagine di Fiorentina fare la danza della pioggia tutti i giorni tutti i giorni io voglio chiederti una cosa perché questo è un argomento che a me sta tantissimo a cuore che è il tema della creatività a me piace l'aspetto digitale come piattaforma non tanto di comunicazione ma quasi con una funzione documentaria del tuo processo creativo quindi più che comunicare a me piace utilizzare gli strumenti del digital come uno strumento di lavoro è uno strumento di lavoro per l'artigiano è una messa in azione del suo pensiero e quello che è il frutto del tuo lavoro uno specchio con cui tu capisci chi sei chi sei diventato chi stai diventando quindi a me piace considerare tanto in un podcast quanto in un dialogo quanto in un video uno strumento di espressione quasi egoistico se mi passi il termine per capire chi sono veramente noi siamo le cose che siamo in grado di creare nella mia mappa del mondo quindi più che l'approvazione a me importa l'autenticità piaccia o non piaccia questo nostro contenuto a me interessa di più essere riuscito a passare ad Ivan il mio pensiero aver capito qual è il pensiero di Ivan aver messo assieme le nostre facce della stessa medaglia a disposizione di chi ha voglia di ascoltarci questa è la mia motivazione principale al tempo stesso però mi rendo conto del motivo per cui mi spavento ogni volta che aumenta il numero degli iscritti al mio canale Telegram lo ricordo ti.me slash chi cercatova perché man mano che un nuovo estraneo entra in contatto con quella narrazione intima che tu fai io nel mio caso faccio una nota vocale al giorno raccontando il mio il mio audio diario londinese ok il rischio è che esponendo quel contenuto che io vedo come un artigianato ad un pubblico sempre più esteso il rischio inconscio di una ricerca di approvazione e di contaminazione del tuo messaggio è fortissimo quindi il motivo per cui io dico quando mi partico con un podcast prima di esporlo al mainstream su Spotify le principali piattaforme in podcasting o addirittura farlo su YouTube fattelo per i cavoli tuoi su Telegram dove meno persone ti seguono e più sei libero di sperimentare di capire chi sei tu veramente poi quando hai trovato il tuo messaggio la tua melodia il tuo ritmo boom fallo esplodere fuori perché non lo fai solo per te stesso lo fai anche soprattutto per gli altri mi viene in mente l'ultimo libro di oh Dio aspetta quello della mucca viola Seth Godin Seth Godin quello è un grande e lui dice il tema esplode il tema della creatività infatti si intitola proprio Creativity l'ultimo libro e dice share it cosa sono i tre punti aspetta create and work lui dice se lo fai solo per te stesso quella non è creatività quando tu hai un'intuizione devi sei chiamato a condividerla con il mondo perché devi creare dei mondi a cui la gente ambisce ad appartenere quindi la capacità di esporlo dei feedback è nella grammatica della creatività poi dice punto numero due non è solo la questione di condividerlo ma la capacità di generare mondi nuovi quindi con il tuo storytelling quella tua produzione di contenuti digitali crea racconta quel mondo agli altri mettendo quanto più della tua unicità all'interno del microcosmo che stai creando terzo work ricordati che puoi essere pagato non puoi essere pagato puoi essere seguito da zero persone puoi essere seguito da un milione di persone ma ricordati il senso di responsabilità di fare quello che fai in modo professionale io per esempio ho preso un impegno una nota vocale al giorno è come un lavoro ovvio che non vengo pagato e il mutuo della casa a Londra non lo pago grazie alle note vocali su telegram e men che meno attraverso le dirette che ogni giorno faccio dai due tre quattro ore di dirette ma ciò nonostante anche e soprattutto perché non vengo pagato lo devi fare in modo professionale prendi un impegno prendi un impegno con te stesso prima che con gli altri farlo in modo professionale long story short per dire che cosa come la ricerca di approvazione rischia di contaminare la capacità dei ragazzi di interpretare i strumenti del digital come uno strumento di espressione di comprensione del sé perché era venuta fuori la proposta mesi fa di Instagram di togliere la quantificazione dei likes dei coricini ma lì c'è tutto un lato scuro lo so che c'è un lato scuro user experience perché sulla prima battuta sembra una cosa positiva certo perché così ragazzi sì sì allora a parte il fatto che io non ho visto nessuna ricerca riguardo a questo ora non so non voglio insinuare che non esista perché magari semplicemente io non sono mai riuscito ad intercettare nessuno ossia in base a cosa Instagram quando ha preso in base a cosa ha preso questa decisione in base a quali ricerche accademico oppure anche analitiche sue che di sicuro poi non vanno a raccontarle perché sono private sono interne è ok però ad esempio quando comparve questa funzione io mi chiesi ma nel momento in cui io vedo che io ho solamente scrivo un post pubblico un post ciccio è una decina di persone e poi vedo il mio amico ciccio è qualche migliaio di persone ma non è peggio quindi dico porca cioè si rischia anche lì bisogna vedere un attimo i dati in effetti quelli non sono riuscito a trovarne però il mio timore è che si rischi di generare ancora quell'elemento di grandezza perché io non vedo io vedo 100 e vedo 10.000 è un conto ma se vedo una decina e vedo qualche migliaio nella mia mente il migliaio sembra molto maggiore esatto soprattutto perché litica insicurezza individuali oddio mamma mia e sembra quasi lo metta nel campo della mistica il successo del tuo amico rispetto a te stesso esatto 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 perché perché poi noi sappiamo benissimo che la vera consapevolezza che quindi poi va a mitigare tutto questo è quando tu ti metti con i dati alla mano perché perché se io ti parlo di qualche decina e varie migliaia in qualche modo io sto idealizzando è un'idea non è un numero qualche migliaia un numero è 4895 quello è un numero qualche migliaia è un'idea io rimango ad idealizzare questa cosa nel momento in cui invece vedo il numero l'impatto è già differente poi vari ricercatori hanno anche sollevato il dubbio riguardo a un effetto collaterale oppure intenzioni nascoste questo non lo sapremo mai di questo provvedimento ossia il fatto di inserire questo discorso qua effettivamente spinge le persone a condividere di più a pubblicare di più proprio perché viene un po' meno questo senso di vergogna bravo se noi pensiamo a come monetizza Instagram e non solo lui boom sì infatti il tema è in un contesto di finta senza di giudizio ti senti più spronato a condividere ancora più di te stesso e persino cose meno patinate e più intime e soprattutto aumenta come creator prima ancora che come fruitore il numero di ore che passi sulla piattaforma per verificare che cosa accade quindi subito la cosa esatto esatto attenzione anche perché se poi noi andiamo a vedere in realtà esistono anche altri modi per ridurre ad esempio fenomeni come hate speech e robe di questo tipo ovvio non la bacchetta magica però chissà come mai non vengono adottati ad esempio quello che racconto sempre è di una una ricerca che fecero vabbè una ragazzina indiana dell'India che poi è stata assorbita credo dal mito non mi ricordo più bene comunque che vari anni fa stavo studiando un sistema che aveva chiamato rethink cioè proprio ripensaci praticamente voleva essere un un secondo layer prima di pubblicare un commento oppure un post molto semplicemente esatto un sistema possibilmente nativo del device che anche un semplice commento io scrivo il commento premio invio compare un pop up per condividere sei sicuro sì no metteva sì andava avanti se no invece tornava indietro potevo modificarlo o cancellarlo non la sapevo eh sì sì rethink proprio e pensa che secondo una ricerca che hanno fatto poi questo sistema secondo i loro dati era in grado di ridurre l'hate speech del 95% boom e io mi chiedo ma le piattaforme social secondo voi un ingegnere quanto ci mette ad ideare questo secondo layer e perché non l'hanno mai fatto a me fa un po' ridere perché poi mettono la pagina dedicata ai genitori che nessuno andrà mai a leggere tanto perché poi valla a trovare figurati stiamo studiando per carità i sistemi di intelligenza artificiale e machine learning per individuare i commenti potenzialmente offensivi ti avvisiamo tutta roba che va bene carità però io dico ricordiamoci ricordiamoci che Donald Trump non queste presidenziali ma le sue prime presidenziali le vinse grazie al hate speech non è stata una battaglia di idee e men che meno di ideali ricordiamoci che le presidenziali del 2016 hanno un record la più bassa affluenza alle urne della storia degli Stati Uniti d'America non gliene fregava niente a nessuno l'uno o l'altro diciamocelo ma l'ha vinta grazie alle idee agli ideali alla visione politica era forse un Kennedy un Martin Luther King ma di che stiamo parlando che lui ha vinto le presidenziali dicendo tiriamo su un muro sbattiamo fuori i messicani dai non dirmi che l'ha vinta l'ideale l'ha vinta con sexual harassment verbale offendendo personalmente il suo avversario che era Hillary Clinton ironizzando sul suo essere donna bla 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 non è una guerra di idee è che ha creato un tal sensazionalismo che il mondo intero sapeva che Donald Trump si candidava alle presidenziali lui è stato lui il suo staff comunque è stato bravissimo a smuovere gli animi dei suoi seguaci tali da fargli alzare dal divano uscire di casa e andare a votare laddove invece la campagna di Hillary meno così appunto strong invece è stata più tra virgolette blanda più pacata ecco tant'è vero che in quel periodo mi ricordo che un giornalista non mi ricordo di quale giornale ovviamente uno dei grossi americani scrisse se la gente avesse potuto votare dal telecomando del proprio televisore avrebbe vinto Hillary Clinton perché non è che Trump avesse avuto maggiore consenso e che Trump era riuscito a scaldare così tanto gli animi che erano incazzati hanno vinto gli incazzati esatto erano così incazzati che adesso che hanno detto non mi ne frega niente c'è una giornata di sole c'è una giornata potrei andare al mare potrei no vado a votare perché è giusto così chiaro ad esempio quando una volta vabbè adesso un po' di meno però mi ricordo anche in Italia a volte si diceva non andate a votare andate al mare perché tanto non serve ecco quello cosa vuol dire anche così va a votare solo chi dico io perché sono fortunatamente scaldati e preparati e dico io questo per dire diciamo che l'intensità emozionale e chimica dell'odio soprattutto in questo glorioso ventunesimo secolo è molto più forte che non quello della gioia della gratitudine della visione e del sogno esatto parlo anche di volume esatto sì sì di volume e anche di diciamo presenza anche di presenza mediatica quindi ad un certo punto lui ha iniziato a spararne così tante e così grosse che ad un certo punto la gente si era si è abituata a queste cose ha normalizzato il suo messaggio questo è anche un po' dovuto al sovraccarico cognitivo pensiamo ad esempio alle fake news quando ad un certo punto se io ti sparo una fake news e tu ci ragioni su e dici no questa è una palla due ok tre ok ma quando io te ne sparo cento tu boh tu lasci stare ti arrendi e mi dici no guarda ho altro da fare nella vita che stare dietro a queste cose allora ecco che inizia a prendere per buone certe informazioni questo è uno dei trucchi delle fake news uno dei pericoli che i sistemi di intelligenza artificiale rischiano di portare quando saranno in grado di scrivere testi già lo sono perché c'è già lo so però c'è anche una cosa pericolosa qui dentro il fatto che in questo clima di infodemia in cui è sempre più difficile capire che cos'è vero la gente rinunci al concetto stesso di verità è questo pericoloso esatto io aggiungo un pezzo a dire del fatto del rinunciare a quale concetto stesso di verità perché poi potremmo entrare nel filosofico tu lo insegni meglio di me ma che cos'è la verità potremmo stare qui praticamente è da millenni che ce lo interroghiamo non risolveremo non arriveremo meglio se fossimo grado di risolverlo in mezz'ora veramente ci faremmo ricchi con la filosofia attenzione con la filosofia esatto ma è un miracolo nella storia dell'uomo due che diventano ricchi sfondati grazie alla filosofia che si è frecciata perché in genere si 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 è vero si fa dell'ironia sui filosofi comunque stavo dicendo quindi ho perso il filo scusa perché è del concetto di vero e impossibilità di concetto di vero in realtà noi ma sta già accadendo ormai da tanto tempo è sempre accaduto ma col digital sparato all'ennesima potenza noi finiamo per costruirci la nostra verità quindi non è che noi abbandoniamo il concetto di verità ci costruiamo la nostra nella nostra bolla parte dalla bolla sociale per cui io inizio ad avere contatti sempre solo con persone che hanno i miei stessi interessi o che comunque mi danno sempre ragione e così via quindi ottengo sempre più conferme entro in un circolo vizioso in una spirale così come pensiamo ad esempio andrà sempre più così ripeto al di là del bene e del male ad esempio pensiamo ai nuovi sistemi di realtà aumentata e dice cosa c'entra il sistema di realtà aumentata beh io già adesso mi quando pubblico magari io magari no così sono guardate che sfondo che ho praticamente mi trasmetto dalla mia batcaverna perché il cellulare mi ha dato forfè avevo lo sfondo figo dall'altra parte della casa questo è un messaggio Ivan questo è un messaggio questo è un messaggio si te stesso si te stesso allora e quindi stavo dicendo ad esempio noi già comunque rappresentiamo noi stessi in in un modo più manipolato attraverso i filtri attraverso e così via le altre persone dall'altra parte dello schermo conoscono noi stessi conoscono noi in un modo manipolato tradotto in un modo che comunque comporta solo una parte tra virgolette di verità è sempre accaduto io non vado in ufficio in pigiama è ovvio ovviamente però con il digital questo è sparato all'ennesima potenza ora pensiamo ad esempio ai ragazzini e ragazzine ma non solo tutti i vari filtri ad esempio con le orecchie di cane la lingua io se io vedo una persona con le orecchie di cane non penso che sia veramente così ci mancherebbe però attenzione dentro di me scatta che io mi appassiono mi affeziono mi innamoro anche di quell'immagine è di quell'immagine l'immagine è comunicazione quindi tutto quello che mi arriva quindi io mi costruisco la mia verità con i sistemi di realtà aumentata che stanno emergendo questo andrà sempre più in là perché perché ad un certo punto e questa non è fantascienza signori siamo già lì in realtà ad un certo punto io una volta che avrò gli occhialini e così via potrò anche decidere come farmi come mostrarmi dal vivo in sovrimpressione dagli altri passanti esatto più magro più questa cosa questa cosa è reale non è fantascienza è reale esatto noi esseri umani con il digital abbiamo costruito un altro livello di realtà ovviamente poi si incrociano costantemente ripeto al di là del bene e del male ci mancherebbe semplicemente come stava e che cosa sta accadendo punto io non sono qui per dire cosa è giusto cosa è sbagliato ovviamente non è il mio ruolo ecco di conseguenza questo reale man mano che si incrocerà sempre di più con il reale diventerà parte della mia verità ad esempio abbiamo una totale fusione tra digitale e non digitale ma ormai è già così perché ormai le ricerche ormai hanno visto che noi diamo retta alle recensioni tipo pensa a Amazon ma non solo alle recensioni disconosciuti esattamente noi gli diamo lo stesso identico valore dell'opinione dei nostri amici se non quindi noi siamo gente perché loro sanno di cosa ti faccio un esempio un microfono ok se io chiedo ad un amico ma mi consigli un microfono non può sapere di musica non può sapere di musica non può sapere di audio non può sapere di audio loro invece ne sanno perché sono acquirenti non hanno avuto esperienza l'hanno provato l'hanno provato quindi mi fido di più di un nick vero falzullo che sia che racconta un'esperienza più in linea con la mia che non quella di un amico esatto poi trovi esatto poi trovi quello lì che nelle recensioni per carità magari dice la vera dice ah io lo uso per lavoro e allora ah quindi lo usa per lavoro una roba lo usa seriamente non lo usa per giocare allora se lo dice lui poi magari è vero per carità e però ecco quindi è un piccolo esempio ma per dirci che noi siamo già dentro siamo già dentro siamo già dentro questa questa situazione sparandola proprio in termini più futuristici man mano che noi avremo intelligenze artificiali che sapranno comportarsi parlare così via in maniera sempre più convincente io dico non in maniera uguale a noi io dico in maniera abbastanza convincente perché a noi poi alla fine basta questo in maniera abbastanza convincente e tutto questo sarà poi immerso nel nostro reale allora ecco che non ci sarà più distinzione non ci saranno più queste distinzioni allora ecco che veramente noi potremmo innamorarci di un avatar che noi vediamo con i nostri occhialini o quello che sarà in futuro presente vicino a noi quindi per noi è reale e concreto ma è in realtà gestito da un algoritmo punto e quello è il fatto sta già venendo aggiungo una provocazione scusa finito solo il discorso scusa un attimo dicevo sta già venendo signori andate sui vari app store andate a cercare le chatbot quelle ovviamente che promettono di eccetera eccetera ha tutta ragione di esistere ma io dico andate a leggere le recensioni e i commenti e vedete trovate robe ah è come un amico per me e così via esatto la nostra verità noi viviamo di rappresentazioni scusa ti ho interrotto no ma sai che recentemente io mi sono un po' appassionato dei podcast di alcuni futurologi americani che raccontano scenari a avvenire e devo dire che cerco di selezionare quelli che hanno più referenzialità scientifica cioè non il classico complottista che ti dice siamo già le duracelle dei sistemi informati degli algoritmi sta per uscire il 4 di Matrix sta per uscire il 4 ok ce lo devono il 4 poi ce lo devono vero io ti dico quando noi guardiamo poi la realtà mi interessa che chi fa proiezioni del futuro perché raccontando storie del futuro tu condizioni anche il presente delle persone si dico con una certa referenzialità scientifica sta andando in quella direzione mi crei di fatto una lente con cui io processo il mondo e mi condizioni il comportamento quindi scelgo molto attentamente i tipi di podcast da ascoltare vuol dire che il podcast è il regno dei futurologi perché ti danno spesso delle rappresentazioni alternative rispetto a quelle che passano al mainstream anche per non creare tranico sociale e tutto il resto e recentemente mi sono imbattuto in questo podcast di un tizio che sostiene che entro i prossimi 30 anni la gente non farà più sesso perché ci sarà l'evento del coronavirus che già ha isolato la gente ha fatto temere l'uno dell'altro ha paura di camminare accanto figuriamoci incontrare un estraneo non tutti così però a gran parte cominciano a temere il contatto con l'altro e io qua Ivan ti devo dire che noto anche in alcuni amici dei miei bambini a scuola che si sta creando una paura patologica una fobia di germi contatti superfici igienizzazione e altro ma volevo tornare al porno perché lui sostiene che il coronavirus non è un caso isolato ne avremo altre mutazioni dello stesso diventeranno sempre più frequenti e questo sarà un nuovo scenario sociale a cui noi dovremo abituarci a convivere e lui dice la pornografia ha alterato l'esperienza sessuale adolescenziale mentre una volta era un tabù il giornalino che quell'altro aveva fregato al fratello maggiore e scoprivi cose che dici cos'è sta cosa o te ne parlavano e tu te lo immaginavi poi nella realtà era una cosa diversa creavi un'esperienza oggi meno male a 16 anni uno ha visto cose che io e te manco abbiamo mai usato a cliccare per esempio quindi assunto questo lui dice mentre una volta per avere un'esperienza sessuale un uomo con un uomo una donna con una donna un uomo con una donna poco importa dovevi capire te stesso vincere la timidezza farti avanti fare esperienze tipo sociale prima ancora che sessuale oggi con un clic hai tutto a disposizione quindi notava come il fenomeno degli adolescenti che stanno sempre più isolando e evitano di fare sesso mescolato in un contesto sociale dove la pandemia crea una fobia di paura di contatto e con contestualmente l'industria del porno che ricordiamolo è un'industria miliardaria e uno delle industrie tecnologiche più all'avanguardia perché i video con i visori VR non hanno cominciato quelli del gaming a farlo hanno cominciato quelli del porno poi è arrivato il gaming poi è arrivato il pirla sottoscritto che lo faceva in un contesto formativo ti portavo in giro per l'onda per parlarti di PNL comunicazioni se voi vedeste quante avanti porn hub da questo punto di vista è addirittura accessibile per gli ipovedenti ma è quello che sto dicendo è un'industria miliardaria all'avanguardia e loro stanno creando e stanno investendo miliardi di dollari in creare un'esperienza sessuale di tipo digitale che permetta alle persone di fare sesto senza gli inconvenienti del sesso che si chiamano la dico provocatoriamente relazione cioè conosce una ragazza corteggiarla portarla fuori fallimento affanculo ricomincia si provo con un'altra eccetera eccetera ma anche contaminazione batteriologica virale allora io ti chiedo già la gente oggi non ci prova più con la il bambino non ci provano più tra di loro i ragazzini non ci provano più tra loro perché hanno porn hub un domani che ti permetterà la tecnologia digitale pornografica di fare sesso con le pornatrici o i pornatori più palestrati virili eccetera eccetera come se fosse reale ma chi cazzo scopa più quando là fuori c'è il virus c'è il coronavirus ce ne saranno mille coronavirus alla N eccetera eccetera è un rischio concreto sì allora non serve il discorso del virus basta anche semplicemente che in questo è una migliore esperienza ad esempio una migliore esperienza perché perché come dicevi tu manca tutto se a me non frega niente dei preliminari boh vado direttamente addirittura il fatto che i video siano anche suddivisi per prestazioni per prestazioni ad esempio quindi addirittura io non sono obbligato a vedermi l'intera prestazione dall'inizio alla fine ma posso anche scegliere solamente il pezzettino la performance che piace più a me o addirittura vado avanti per collezioni di quella performance e così via quello sicuramente però vedi tutto questo è sempre il discorso della mia verità ripeto al di là del bene e del male perché perché in effetti esistono già adesso adesso non so se Pornable l'abbia già implementato o ci stava ancora studiando perché è una notizia vecchia di uno o due anni comunque l'idea di realizzare dei video che potessero essere sincronizzati con i sex toys così in base alla scena i sex toys riproduceva la sensazione di quella performance adesso io vabbè non ci vado da un po' di tempo su Pornable però vabbè però come puoi dire ci vado per studio me l'ha raccontato un amico come si dice ci vado per studio ma guarda dopo se vuoi ti racconto un aneddoto che è veramente proprio riguardante Pornable proprio della serie comunque veramente non fatelo a casa comunque stavo dicendo quindi stavano sviluppando non so se alla fine l'abbiamo già implementato se è ancora in corso una roba di questo tipo ecco così come ad esempio vari sex worker si sono organizzati con questi sex toys perché dal momento che c'è sia il mio sex toys sia la controparte dall'altra parte è tutto sincronizzato certo e allora boom per migliorare questa l'esperienza dell'utente consideriamo il fatto che adesso con il fatto del covid molte sex workers si sono appunto spostate online per ogni motivo questo è il loro lavoro e non potendolo più fare dal vivo hanno detto ci reinventiamo tu te lo ricordi quel filmaccio orribile trash ma proprio trash trash che era demolition man con mamma mia come si chiama cosa mi hai fatto ricordare silvestre stallone lui racconta di questo futuro da cui lui viene deibernato e lui è innamorato di santa bullock vuole farci sesso e dice scusami ma attraverso lo scambio di fluidi e lui dice beh sì ma non si fa più dal 2020 quella roba lì la serie oh antiquato ha portato malattia contaminazione si fa con le tute e lui dice oh mamma mia in un futuro lui descrive un futuro in cui non ci si bacia dove non si fa sesso e sembrava ridicolo ma oggi dico caspita non è poi così distante demolition man qua volevo chiederti una cosa perché Elena Bizzotto la nostra comune amica che ci ha messo di fatto in contatto ciao Elena scrive una cosa e io non so che cosa significhi da non molto ho scoperto anche l'esistenza dell'ikomori i kikomori ah scusami i kikomori termine di origine giapponese come si può intuire rappresenta quelle persone che diciamo adesso tra virgolette detto così vabbè in modo molto semplice e banale semplificando veramente l'ennesima potenza ad un certo punto decidono di rinchiudersi in casa non uscire più e rinunciare a tutti i contatti sociali e così via nei casi estremi arrivano a chiudersi proprio nella loro cameretta non avere più contatti neanche con chi abita magari in casa tipo se pensiamo ad un ragazzo anche nei confronti dei genitori io lavoro ma è una pratica scusami ma si definisce è una pratica è una patologia cos'è? non è una patologia sicuramente la definiscono più una sindrome perché è più un'espressione anche lì appunto di disagio di vari fattori che a livello di comportamento portano poi a rinchiuderti ad isolarti sempre di più e così via è un fenomeno che purtroppo è vero che sta crescendo in questi tempi ossia appunto soprattutto alle fasce più giovani quindi parliamo di adolescenti che poi arrivano ad avere 20 25 anni che appunto iniziano a ritirarsi sempre di più proprio in generale dalla società e si chiudono in casa o in alcuni casi addirittura nella propria cameretta nella propria stanza sì sì io ho avuto ho lavorato con ragazzi i genitori lasciavano il cibo davanti alla porta e poi se ne andavano e poi il ragazzo apriva e tirava dentro il cibo senti mi passi mi passi un momento complottismo perché vai io biasimo i complottisti però mi rendo conto che alcune posizioni estreme mi affascinano ok e se sempre sempre che quando descrivevi la scena di adolescenti chiusi nelle loro stanze con la mamma che passa il cibo così nella mia testa come un pop up sono venute in mente alcune scene che mi hanno raccontato amici per sospetto tampone hanno dovuto per esempio qua a Londra chiudere il fratello nella stanza e la mamma passava cibo un'altra amica di Milano sospetto tampone al marito l'ha chiuso in un'ala della casa in cui passava il cibo allora ecco la provocazione da complottista del bar dello sport quella proprio da strada ma non è che questa i Kiko Mori si dice scusami vero i Kiko Mori si diventerà sempre più probabile perché viviamo in un contesto in cui ciascuno di noi ha sperimentato questo isolamento causa coronavirus tamponi sospetti eccetera eccetera traendone anche gli aspetti positivi perché io quando parlavo con il marito della mia amica che mi raccontava che passava il cibo io chiedevo lui Marco com'è e lui dice guarda non è tanto male non c'ho nessuno in mezzo alle balle me ne sto per i fatti miei guardo i film che voglio io non devo guardarli con mia moglie mi sto quasi abituando io ci ho riso perché è ovvio che era una battuta certo è una battuta infatti perché lui è una persona centrata che cerca di ironizzare su una cosa che comunque lo mette a disagio però vuoi che quella che per lui è una battuta possa diventare una verità a chi ha un disturbo psicologico a monte tutto sommato e non avere a che fare con nessuno non mi dispiace così tanto può capitare questo sì potrebbe capitare nel senso che potrebbe spingere le persone verso quel gesto però attenzione spingere le persone verso quel gesto persone che già sono potenzialmente orientate in quella direzione quello può essere può essere esatto ovviamente attenzione perché parliamo sempre di un nucleo che sta dentro di noi quello che citavo un po' agli inizi anche di questo podcast ossia questa narrazione ovviamente fasulla i chicomori appunto uguale cioè i ragazzi si chiudono in camera perché stanno sempre attaccati ai videogiochi in realtà è l'esatto opposto in realtà alla base di questo fenomeno e qui di nuovo c'è la società di mezzo guarda caso anche una famiglia di un certo tipo e così via è stato anche rilevato questo che portano poi ragazzi in questo ossia una società che schiaccia letteralmente i ragazzi perché questi ragazzi vivono la vita in un certo modo poi a un certo punto quando emergono è ora di uscire all'aperto alla società boom non reggono e si rinchiudono ad esempio ancora una volta il problema non è il problema il problema che noi vediamo è il sintomo di un disastro molto più grande di un mondo esatto e di nuovo la tecnologia qua non c'entra assolutamente nulla anzi per alcuni di loro la tecnologia diventa poi un modo per non perdere anche solo quel filo di contatto che hanno con il mondo ad esempio questo è molto importante pensa che questo fenomeno degli kikomori ad esempio viene studiato in Giappone come problema sociale fin dagli anni 80 quindi spiegami il digitale che cavolo c'entra la questione è che adesso si sta sviluppando anche da noi ma prima non esisteva è vero qualcuno ci ha provato cercando di trovare dei parallelismi tra i vecchi eremiti con gli kikomori questi che si andavano a vivere nel bosco però era completamente altre cose qualcuno li ha addirittura definiti gli kikomori di oggi gli eremiti moderni insomma vabbè lascia un po' il tempo che trova perché le cose sono differenti perché non so come raccogliere miti ma i nostri ragazzi soffrono a stare là dentro questo è il tema quindi questo è Ivan che nel parlare con te forse per l'argomento che abbiamo che abbiamo toccato che da padre mi spaventa pur non avendo registrato ancora queste forme di disagio però so che il benessere dei miei figli è limitatamente sotto il mio controllo perché comunque sono disposto a influenza che io non posso controllare e forse non è neanche giusto che io possa controllare del tutto però mentre parlo con te per gli argomenti che abbiamo toccato mi è venuta una voglia pazzesca visto che siamo in chiusura e tra poco ti dovrò salutare di non accendere neanche il mio telefono prendere il cane e andare a farmi una bella passeggiata al parco ho proprio bisogno sento il bisogno di stare a contatto con la natura parlare con mia moglie e non togliermi dal digitale ma vedere nella capacità di gestire il digital come strumento espressivo una manifestazione della mia libertà individuale quindi ti chiedo ci dai alcune best practices virtuose che secondo te applicate proprio tre comportamenti che applicate a ognuno di noi potrebbe migliorare la consapevolezza con cui ci approcciamo questi mezzi che mi auguro di essere riuscito prima di te a passare hanno dei lati luminosi al pari di anche i lati oscuri se si conosce l'ingegneristica del mezzo che tu stai utilizzando perché è molto potente certo allora innanzitutto ecco sicuramente la consapevolezza quindi sapere come veramente funzionano questi questi gingilli o così come gli algoritmi e così via già aiuta tantissimo perché ci dà sposta a meno in parte il potere verso di noi e non verso quelle macchine e quegli algoritmi quindi questo prima di tutto poi sicuramente entriamo un po' nel minimalismo digitale io sono tantissimo fan del minimalismo digitale è utile funziona hai letto il libro di Cal Newport quello minimalismo digitale quello no no l'ultimo che ho letto è quello che è carino ah ok quello ha proprio scritto un libro ok ma andrò anche a leggermi quello di Seth Godin che non sapevo fosse uscito creativo è freschissimo ah ecco infatti vedi tra l'altro per inciso forse proprio Seth Godin se non ricordo male un'intervista di molti anni fa lui disse io quando apri il blog per i primi due anni ho scritto a nessuno sia nel senso perché per andato avanti tutti i giorni e lui tuttora pubblica un articolo al giorno non commentabile è vero non commentabile è pazzesco comunque quindi sto dicendo rimuovere le notifiche o almeno lasciare solo le notifiche quelle veramente necessarie nel senso io le notifiche per i messaggi diretti perché se qualcuno ha urgenza mi iscrive io devo vederlo subito però dove la piattaforma l'applicazione lo permette io sono andato proprio mi sono preso proprio il fastidio di andare uno per uno ogni voce della notifica via email in app tramite l'applicazione oppure quando apro la piattaforma oppure proprio niente e così via solo quelle che interessano a noi dobbiamo essere noi a prendere le redini di tutto questo quindi questo prima di tutto poi secondo se parliamo riguardo ai nostri ragazzi ad esempio quello di stare vicini giocare insieme a loro anche i videogiochi e di iniziare a concepire il loro digitale come una parte integrante della nostra vita della loro vita io lo dico sempre lo dico anche ai genitori quando lavoro con loro torna la vostra figlia a casa gli chiedete come è andata a scuola come è andata a calcio come è andata su whatsapp come è andata su instagram e così via uguale e identico perché 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 mi dicevi giustamente tu i ragazzi oramai la sticella dell'età si sta abbassando sempre di più sono sempre più autonomi nell'esplorare il mondo anche ahimè in situazioni molto più precoci quindi meno controllate in questo senso di conseguenza noi possiamo esercitare un controllo non diretto è sempre meno il controllo diretto che possiamo esercitare ma possiamo fare in modo ovvio da una certa età in poi ci mancherebbe comunque possiamo sempre fare in modo di creare un ambiente e una relazione con il nostro ragazzo tali per cui sarà il nostro ragazzo che verrà da noi in caso di problemi in caso di dubbi in caso di difficoltà questo è molto importante perché quando voi sentite parlare di questi di questi temi di queste criticità e così via quello che a me distiace è che si parla sempre i ragazzi i ragazzi i ragazzi i ragazzi e gli adulti dove cavolo sono dove sta l'adulto che sta vicino e dice il ragazzo che passa tutte le ore su Netflix abbiamo parlato di binge watching ma dove sta l'adulto che è lì in casa questo ragazzino vive da solo in casa verissimo verissimo un padre una madre o chi ne fa le veci una volta si usava questa formula perché ahimè la vita è la vita però fortunatamente la legge assicura un tutt'ora assicura un cioè c'è sempre qualcuno magari non in quel momento ma prima o poi cazzarola ma quest'adulto entrerà in casa e allora dov'è l'adulto anche lì anche lì l'altro errore quindi lo lascio e ve lo lascio è quello di pensare questi siano problemi loro anche se li stanno vivendo loro in realtà è un problema nostro un problema di quello che sta succedendo in famiglia ma non solo nella società e così via quindi dove siamo noi va bene che loro stiano c'è senso ok io posso capire che loro venga voglia di stare tutto il giorno su Instagram eccetera eccetera ma dove siamo noi che gli proponiamo qualche alternativa che le prime volte ci manderanno a cagare perdonami il termine ci manderanno a quel paese fa parte dei giochi soprattutto ad una certa età fa parte dei giochi ma noi dobbiamo comunque ricordarci che anche solo proponendolo noi gli lasciamo intuire che esiste una cosa alternativa attenzione non usare il cellulare lo usi lo puoi lo puoi usare anche in un altro modo ad esempio molti laboratori che faccio io con i ragazzi sia nelle scuole sia ad esempio in altri ambienti tipo associazioni spazi compiti e così via riguardano hanno proprio questo mood qui ossia gli faccio fare le cose del digitale non porto io il computer o il mio tablet faccio usare i loro cellulari ma facendo anche una migrazione facendogli utilizzare facendogli scoprire delle funzioni appaganti anche per la mente per lo spirito come per esempio utilizzarlo come strumento di vlogging di videomaking racconta è fantastico un bambino fa vedere il mondo con i suoi occhi ecco ad esempio il vlogging che comporta una progettualità quindi non esatto magari perché loro hanno la loro età ci mancherebbe loro sono più immediate fate tac tac e via fate tac tac e via tac tac e via d'accordo allora facciamogli vedere che cose che cose fighe possono fare con il loro cellulare se quando si fermano e ragionano qualche secondo in più vero e così via perché il digitale è lo strumento del loro futuro quindi proibire il digitale ai nostri ragazzi significa proibire uno strumento che è per il loro futuro la questione è che però in tutto questo non devono essere lasciati soli ecco perché anche nelle narrazioni che si vedono sui masmiglia quando si parla di queste cose molto spesso manca il discorso dell'adulto è sempre i ragazzi il ragazzo il figlio il figlio i figli i nostri ragazzi sempre più sempre più ma dove cavolo sono gli adulti chiarissimo guarda è una domanda che lascio al nostro al nostro pubblico ci sono tante domande che vorrei passarti però so che so che devi lasciarti ci salutiamo anche con questo non posso commentare qua no posso sulla condivisione poi sì eh sì lì sul canale perché va bene scrive sempre altissima qualità vera passione grande limpidezza intellettuale non così semplice come sembra eh sì è complesso grazie e poi Pari descrive bel podcast è assurdo come pornografia e social media hanno alzato l'asticella delle aspettative nei giovani preferiscono rimanere soli sognando aspettando il modello che non arriverà mai qua ci sono tantissime considerazioni per te io ti ringrazio perché hai creato davvero tanto valore siamo partiti da una provocazione intellettuale di fronte a mille difficoltà di connessione e poi abbiamo noi alzato l'asticella della provocazione anche intellettuale creando ipotesi filosofiche andando a sposare tesi complottistiche come esercizio di flessibilità intellettuale siamo finiti per parlare di pornografia di adolescenti di strumenti creativi di social network di lati luminosi e di lati oscuri e questo è stato possibile solo grazie alla tua generosità e competenza che hai messo a disposizione di questo podcast io mi auguro che ti sia divertito quanto ti sia piaciuto e che sceglierai di venire alla grande quando vuoi per me casa mia è sempre aperta ne sono ne sono onorato eventualmente volendo io potrei lasciare poi entro sera comunque un commento attraverso il mio canale qua che appunto psicologia e tecnologia così magari chi vuole grazie può commentare sotto grazie io poi rimango comunque in ascolto perché se le persone commentano così a me non arrivano le notizie sulla chat è complesso da gestire la chat ha una sua vita durante la live se avete delle domande vi chiedo di fare letteralmente nei commenti a questo video e abbiamo la disponibilità di Ivan Ferrero psicologo digitale e delle nuove tecnologie ve lo ricordo che si impegna col proprio canale a rispondere ad approfondire e perché no magari le mettiamo tutte assieme queste domande e ci facciamo un'altra live per approfondimento su quelle che sono state più a cuore certo ripeto se poi le fate al di sotto del mio commento appunto a me sono le notizie perché qualcuno mi ha scritto altrimenti non lo saprò mai guarda c'è anche Dario che si è appena iscritto al tuo canale youtube dice bellissimo mi sono già iscritto al canale Dario è il papà che ieri ha raccontato la sua esperienza di cyberbullismo ho avuto la possibilità di vederlo ho l'opportunità di vederlo ieri io ricordo che nel spazio di descrizione di questi episodi qua su youtube e poi verrà spostato su spotify sui principali metafori in podcasting ci sono tutti i riferimenti di Ivan il suo canale youtube il suo canale telegram a cui vi suggerisco di iscrivervi perché l'ho scoperto stamattina e mi sono tempestivamente iscritto per quanto riguarda il mio canale telegram è questo qua t.me slash chi cerca tova tova non trova perché è il diminutivo di tovazzi e ti ringrazio ancora Ivan di cuore è stata una diretta bellissima e non vedo l'ora di rifarla di nuovo quando vuoi ne riparliamo sicuramente tanto come vedi non mancano gli argomenti no non mancano mi sento in evoluzione tra dieci anni potremmo stare ancora qui a parlare di digitale e di robe di questo tipo quindi è una figata guarda mi piace rimani qui rimani qui un secondo perché ti voglio ti voglio salutare poi privatamente intanto saluto i nostri amici concludendo sempre nello stesso modo intanto Elena Bizzotto scrive grandissimi grazie davvero come sempre grandissima Elena grazie Elena ciao allora qui Raffaele Tovazzi per gli amici tova e questo è chi cerca tova grazie a tutti i nostri amici la mia